Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio 2023, assurde previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio Ariete. Nonostante l'energia che sprechi nei progetti che porti avanti, va abbinata alle giuste dosi di pazienza. Oggi può iniziare una tempesta emotiva all'interno della coppia. Il modo in cui gestisci gli eventi dipenderà dalla tua situazione futura. Questa settimana ci sono momenti di grande tensione, quindi dovresti essere preparato fin da oggi per affrontare con successo situazioni difficili. Amore, nella coppia sembra esserci l'illusione di fare qualcosa insieme oggi. Lavoro, ti aspetta una giornata piacevole, accompagnata da bei momenti. Soldi, non è la situazione migliore, ma non ne sei sopraffatto. Salute, ottimo! Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio Toro Pensare sempre che le cose andranno male non li aiuta esattamente ad andare bene. Una cosa è essere realistici e un'altra è vedere i problemi dove non ce ne sono e finire per crearli. Oggi dovrai affrontare una difficile decisione emotiva. Anche se è doloroso per te affrontarlo, non lasciarlo per dopo, perché aumenterai solo il dolore. Quando il cattivo umore prende il sopravvento, è meglio che gli altri mantengano le distanze. Oggi sarà uno di quei giorni. Per il resto, prenditi cura delle tue abitudini di igiene orale. Amore, nelle coppie andrà tutto bene, anche se oggi non sembra esserci molta iniziativa. Lavoro, la giornata si presenta con alcuni momenti di tensione. Denaro, che ne dici di un regalo speciale? Salute, riempi la vasca e prepara qualcosa di speciale e rilassante per te e il tuo partner. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio Gemelli Se hai dei dubbi, è meglio chiedere consiglio. A volte prendi ostinatamente decisioni da solo, ma gli errori iniziano a preoccuparti. Prendersi cura del benessere della famiglia e della sua coesione è un atteggiamento positivo, ma se spinto al limite può diventare qualcosa di forzato. Se continui senza tempo per il tuo riposo, la tua salute ne pagherà. Prendi sul serio gli avvertimenti che il tuo corpo ti dà, il dolore temporaneo può diventare cronico. Amore, cerca opportunità nella tua cerchia sociale. Lavoro, giornata dura Sarai un po' insoddisfatto dei risultati. Denaro, se hai intenzione di trasferirti, aspetta un po' e risparmi altro. Salute, e se esci oggi, Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio Cancro, sentirai il bisogno di condividere qualcosa di personale, quasi un segreto, con una persona vicina. Scegli bene quella persona, perché potrebbe approfittare della tua fiducia. Se vuoi intraprendere un'avventura oggi, entra in una situazione folle. Fallo con attenzione e non coinvolgere terze persone, perché possono farti pagare. Non abbiate fretta quando si tratta di esprimere le vostre opinioni su una questione in cui si possono creare controversie. Vincerai se prima ascolti tutto ciò che dicono gli altri. Amore, nella coppia la giornata è interessante. Possibili sorprese. Lavoro, giornata normale, niente di straordinario. Denaro, la gestione odierna è equilibrata. Salute, fai progetti con il tuo partner. Ottima salute. Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio 2023, Gli astri perfetti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Oroscopo Paolo Fox, 15 febbraio Leone. Il tuo modo di essere ti porta spesso a pensare molto e ad agire poco. E sebbene non sia una tattica negativa, in questi giorni dovresti accelerare i tuoi movimenti. Approfitta delle opportunità per uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso per sfruttare il tempo. Se per questo hai bisogno di spendere poco, non essere avaro, ne vale la pena. Giornata piena di energia e vitalità di cui avrai bisogno, perché ti verranno presentate sfide che dovrai risolvere e dovrai anche affrontare una discussione a casa. Amore, con la coppia oggi tutto è fenomenale. Oggi è il giorno da godere. Lavoro, non essere nervoso, fare errori è saggio. Denaro, se vuoi migliorare la tua economia, trova un modo per guadagnare entrate extra. Salute, possibile disagio in L, Oroscopo Paolo Fox, 15 febbraio Vergine. Affronterai una giornata faticosa. Non solo per il pesante carico di lavoro, ma anche per gli stress che dovrai affrontare. Vacci piano, ma non fermarti. Oggi sarà una buona giornata per recuperare un progetto personale dimenticato o messo alle strette da mesi per mancanza di tempo. Dovresti camminare e respirare un po' d'aria. Oggi ti verrà presentata una situazione confusa in campo economico. Il consiglio è di sapersi fermare per tempo se non si riescono a chiarire i punti oscuri della questione in questione. Amore, anche se le cose sono tese nella coppia. Fai uno sforzo. Lavoro, una giornata produttiva. Sarai felice. Soldi, nessun imprevisto in vista. Salute, ottime condizioni. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio bilancia. Chiudere gli occhi davanti ai problemi che affliggono gli altri è un atteggiamento poco solidale che dovresti scartare, oggi di fronte a una questione che si presenterà inaspettatamente. Gratta la tasca ed esci oggi con i tuoi amici o con la tua famiglia per trascorrere la giornata fuori. Una giornata in un posto divertente aiuterà i tuoi cari a sentirsi più vicini a te. Quando pensi di cambiare la tua vita, lo fai sempre in termini di tutto o niente. Prova a iniziare in piccolo, con risultati modesti ma costanti. Amore, la coppia ha bisogno di un reset. Oggi potresti cogliere l'occasione per sorprenderli. Lavoro, giornata regolare, senza interruzioni. Soldi, non c'è molta stabilità, ma gestisci bene la situazione. Salute, nulla da evidenziare. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio scorpione. Se pensi che qualcuno stia approfittando del tuo lavoro, non esitare a porre fine alla situazione, anche se ti costa un confronto. Ma non dimenticate che il perdono è una delle migliori medicine per l'anima. Se è in grado di farlo, non lasciarti trasportare oggi dai rancori se qualcuno ti contatta. C'è una persona intorno a te che sembra più un nemico che un amico per il modo in cui si comporta. Prova a scoprire se si tratta di una richiesta di attenzione o di odio. Amore, diventa spettacolare per il tuo partner oggi. Lo amerai. Lavoro, giornata estenuante. I superiori saranno esigenti. Soldi, è impossibile non fallire, quindi non arrabbiarti. Salute, possibile disagio alla schiena. Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 febbraio 2023, incredibile zodiaco per sagittario, capricorno, acquario e pesci. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio sagittario. Ti verrà presentato un piano per i prossimi giorni che ritieni troppo complicato o confuso. Pensaci due volte, perché può essere una buona opportunità. Le cose non sono andate come ti aspettavi in campo sentimentale e non sembra che oggi miglioreranno. Dedicati a fare un piccolo esercizio e ordina le tue idee. Le spese telefoniche stanno diventando una parte importante del tuo budget. Senza rendertene conto. Stai attento con il tuo cellulare. Ti porta a un consumo pericoloso. Amore, oggi avrai voglia di tante coccole con il tuo partner lavoro. Sarai un po' nervoso. Soldi, un po' di spesa non ha mai fatto male a nessuno. Non pensarci, fallo. Salute, ti sentirai benissimo oggi. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio capricorno. Ti sveglierai con poca voglia di affrontare la giornata con energia. Se non affronti questa sensazione, puoi facilmente scivolare nell'apatia. Quando ci si trova di fronte a grossi problemi. A volte è meglio aspettare un po'. Non si risolveranno da soli, ma potrebbero apparire nuovi elementi che ti aiuteranno. La tua situazione finanziaria non è delle migliori negli ultimi tempi. Quando meno te lo aspetti, arriverà un'opportunità, anche se ti darà molto più lavoro di quanto ti aspettassi. Amore, approfitta di oggi per avvicinarti al tuo partner. Ha bisogno di amore. Lavoro, se hai un colloquio oggi, potresti essere fortunato. Soldi, oggi potresti farti una sorpresa. Salute, anche se ti sentirai stanco, niente ti fermerà. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio acquario. Se ti imbatti in un problema legale le cui esigenze superano le tue conoscenze, mettiti nelle mani di un professionista. Provare a farlo da soli ti costerà solo di più. Molte volte, le delusioni che soffri rispetto ad alcune persone non sono colpa loro, ma tua per aver attribuito a priori virtù che non possiedono affatto. Trovare errori colpevoli o recriminare non è il modo migliore per risolvere i problemi. Oggi bisogna essere pratici e affrontare le questioni senza chiedere teste. Amore, non dimenticare di dare molto amore al tuo partner oggi. E anche il resto dell'anno. Lavoro, potrebbero sorgere fastidi tra colleghi. Passa. Soldi, situazione sotto controllo. Salute, fai chiarezza oggi. Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio pesci. I problemi che ti affliggono sono più il risultato della tua immaginazione o stato nervoso che della realtà. Rifletti attentamente prima di chiamare una situazione un problema. Se ti senti bene con la tua relazione romantica, non metterla a repentaglio con piccole avventure che faranno sentire meglio il tuo ego. Ma potrebbero danneggiare la fiducia del tuo partner. I progetti per i quali stai scommettendo non hanno successo a causa della mancanza di supporto. Non mollare, perché gli aiuti non tarderanno ad arrivare. Amore, single, oggi potresti incontrare qualcuno se esci. Lavoro, tutto sta prendendo forma, abbi fede. Soldi, economicamente bene. Continua a costruire. Salute, non stressarti se le cose vanno diversamente dal previsto.